E' di 16 feriti il bilancio dei botti di Capodanno tra Napoli e provincia. 13 in città, tra questi 5 sono minorenni, 2 a fratta maggiore, un ragazzo e un adulto e un minorenne a Pozzuoli che ha subito una ferita alla mano. Ma l'incidente più grave ha interessato un sedicene di Caivano ferito al volto da un colpo di pistola all'interno dell'area residenziale del Parco Verde. Il ragazzo di Viareggio, ma figlio di napoletani che erano a Caivano per festeggiare con la famiglia, era affacciato dal balcone insieme allo zio, mentre in casa si brindava al nuovo anno. Poi, nel frastuno dei botti della mezzanotte, ha avvertito un dolore al volto e ha iniziato a sanguinare. Accompagnato dal padre al pronto soccorso dell'ospedale di fratta maggiore, i sanitari gli hanno riscontrato due fori sul viso, uno all'altezza della mascella destra, l'altro a quella sinistra, verosimilmente ingresso e uscita di un proiettile di piccolo calibro. Il sedicene è stato medicato e poi dimesso, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini. Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte di Capodanno anche in via Ferrara, Napoli. La polizia è stata allertata da alcuni residenti e gli agenti, una volta sul posto, sono risaliti all'appartamento dal quale erano stati esplosi i colpi. Entrati in casa, i poliziotti hanno trovato una pistola a salve, calibro 8. Un 48enne napoletano è stato denunciato e la pistola è sequestrata. Poco dopo la mezzanotte all'ospedale San Paolo di Napoli è stato invece soccorso un 50enne che poco prima era stato colpito al volto da un petardo mentre era affacciato al balcone. Tanti feriti alle mani, soprattutto per aver raccolto botti inesplosi in strada. Mentre un ragazzino è rimasto ferito in auto a causa dello scoppio dell'airbag che si è attivato per la forte esplosione di un petardo in strada. Il minorenne è stato colpito in pieno volto e ricoverato per un trauma oculare. Numerose anche le auto danneggiate o distrutte, soprattutto in provincia di Napoli, a causa dei botti a torri annunziati, i carabinieri sono intervenuti per un incendio all'interno di un parcheggio delle ferrovie dello Stato.